You ass*** come here ass*** f*** poi una delle cose che mi fa più ridere l'ho sentito l'altra volta in tv c'era un politico che stava dicendo ormai in Italia esiste anche il razzismo contro i bianchi e c'è gente che ci crede cazzo raga non può esistere il razzismo contro i bianchi per un solo e semplice motivo siete bianchi cazzo ma che cazzo può essere razzista contro i bianchi raga voi siete troppo forti voi siete riusciti a infilare il porno dentro un cellulare raga che cazzo può essere razzista contro di voi no ma è pazzesco ragazza in Africa hanno già preso tutto quello che c'era da prendere ok? tutto le ricchezze le terre tutto hanno preso l'unica gioia che ci è rimasto nella vita è di lamentarci del razzismo ok? anche quello non potete mai prenderlo ragazzi no è impossibile non potete prendere questa roba lì lo so che si dice l'erba del vicino fa sempre sballare di più lo so che si dice così ma non c'è niente di bello nel razzismo ragazzi il razzismo antibianco è come creare un problema per sostituire un altro problema cioè non funziona così è come se la tua tipa ti becca in fragrante con un altro letto e tu per difenderti lo guardi fai oh ma che cos'è sta cosa di guardare nel mio letto? non può funzionare così raga ok? a maggior ragione se l'hai pure fatto sul letto dei suoi genitori non può funzionare raga ok? poi questa cosa qua non è che io ce l'ho con voi eh i bianchi no abbiamo tutti i nostri difetti ok? cioè ogni popolo in questo mondo ha i suoi difetti per esempio noi neri uno dei nostri difetti più grandi che quasi quasi diventa anche un handicap è che ce l'abbiamo grosso hai capito? si 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 raga cioè voi direte ma non è molto pratico nella vita di tutti i giorni ok? cioè prendi solo l'esempio un pochino eh? prendi l'ascensore e dentro l'ascensore c'è altra gente e l'ascensore sale e la sfiga fa che l'ascensore a certo punto si blocca cioè sicuramente uno dentro ha dimenticato il cappellino sul letto un bastardo ok? l'ascensore si blocca e tu in quel momento ce l'hai talmente grosso ma talmente grosso che devi smettere subito di respirare perché con un naso così grosso si respira e tira anche l'aria dentro le loro polmoni hai capito? cioè è impossibile abbiamo tutti i nostri difetti raga signor lei che cosa stava pensando? oh già devi smettere qua ci sono bambini cazzo e quello che dicevo abbiamo tutti i nostri difetti noi i neri ci abbiamo grosso il fratello è un maiale i cinesi i cinesi sono ricchi e voi bianchi fate catcalling per strada abbiamo tutti i nostri difetti ragazzi il catcalling ma chi è stata quella prima persona a fare catcalling per strada e pensare che poteva fare parte di un metodo infallibile di seduzione il catcalling non so neanche come cazzo si fa perché noi in Africa perché noi in Africa non facciamo il catcalling per strada ragazzi ok? già perché non ci sono ragazze per strada sono tutti in casa a cucinare ragazzi non ridete a questa bambina non ridete smettila smettila non voglio avercela con le femministe non voglio problemi ok? poi come cazzo fate a crederci ragazzi in Africa non abbiamo un cazzo da mangiare che cosa devono cucinare? poi da tutto sto casino qua di catcalling ho solo confermato anch'io una tesi che avevo fatto io su di voi italiani il primo giorno che sono arrivato in Italia ho notato che gli italiani siete un popolo molto strano si 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 quello l'ho notato la prima sera che la mia barca ha atterrato su Reggio Calabria si 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 raga ho notato che siete strani perché eravamo lì dentro la nave della marina italiana no? e guardavamo fuori e fuori c'erano due italiani che stavano parlando solo con i gesti e mi sono detto porco putano quindi è vero che esiste il paese di Charlie Chaplin allora ok? ma fate bene a non parlare fate bene a non parlare a usare solo i gesti perché secondo me i gesti la gestualità è la lingua del futuro eh? guardate Kabilame ragazzi il ragazzo ha fatto un mucchio di soli solo facendo infatti ogni tanto ci penso e mi dico porco putano perché non ci hai pensato prima Nathan era così semplice ragazzi e bastava solo fare al posto di essere qua a scrivere pezzi e parlare per un quattro ore davanti alla gente come un pirla e non ne 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 sto urlando vaffanculo va 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 sto urlando e nene cimitero si 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 va ce l'ho grosso ce l'ho grosso poi vi faccio credere che stavo parlando del mio naso era il mio uccello signore aveva razione di pensare stavo parlando del mio uccello ma fate bene fate bene a usare i gesti al posto di parlare soprattutto in questo periodo qua eh? storico dell'essere umano in cui siamo un po' tutti offendibili eh? vogliamo proprio essere offesi per sentirci vivi cioè c'è gente che si sveglia la mattina nessuno l'ha offeso va sui social fa un posto in cui si offende perché nessuno l'ha offeso cazzo ok? e poi fate bene a non parlare raga e questa cosa qua lo dico anche vale anche per la mia gente eh? perché ci sono fratelli e fratelle che ormai usano il razzismo come jolly per soddisfare la loro vola di essere incazzato di essere offeso ok? cioè ovviamente dico bene il razzismo esiste c'è gente che ne soffre ma ci sono fratelli che esagerano cazzo la mia ex ivoriana l'altra volta stavamo litigando per la tv perchè lei voleva guardare Barbaradusso io volevo guardare la formula 1 un litigio normale no? come si fa in tutte le copie normale a un certo punto si gira mi dice questa frase qua che mi ha mandato in tilt ragazzi mi fa quindi tu non mi lasci guardare la tv perchè sono nera eh? oh raga in quel momento io ho fatto la cosa più italiana che esiste al mondo talmente che non sapevo che cazzo rispondere lo glotto fatto? raga 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 raga